Musica Sequestrato l'impero di Vincenzo Gammicchia, l'imprenditore e leader degli pneumatici a Palermo. Formazione professionale, l'Arsa ha approvato la riforma. Conferenza sul culto della memoria, tutela e rispetto ai militari caduti in guerra nelle missioni di pace. Buonasera e bentrovati alla prima edizione di Media News di mercoledì 27 novembre. Come avete sentito dai titoli sequestrato l'impero di Vincenzo Gammicchia, l'imprenditore e leader degli pneumatici a Palermo. La guardia di finanza ha posto sigilli a beni per oltre 17 milioni di euro. Sequestro per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro nei confronti di Vincenzo Gammicchia, imprenditore palermitano nel settore della vendita e assistenza di pneumatici. Nell'imponente operazione sono stati impegnati oltre 50 finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo con il supporto di elicotteri della sezione aerea che hanno sottoposto a sequestro aziende, quote societarie, immobili, conti correnti bancari, polizia assicurativa, cassette di sicurezza e automotoveicoli. L'attività di indagine è stata condotta dagli specialisti del GICO che hanno sottoposto al setaccio atti giudiziari e informazioni patrimoniali che riguardano un arco temporale di oltre 40 anni. La ricostruzione operata dai giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale sulla base degli accertamenti effettuati dai finanzieri ha consentito di evidenziare come Gammicchia, seppure incensurato, sia da ritenere un imprenditore contiguo alla criminalità organizzata. È stato necessario analizzare e riscontrare le dichiarazioni precise, puntuali e ricorrenti rese nel corso degli anni da numerosi collaboratori di giustizia che indicano Gammicchia come soggetto a disposizione di Cosa Nostra per investire nelle proprie attività risorse di provenienza illecita riconducibili alle famiglie mafiose dei Galatolo e dei Fontana, operanti nei quartieri Acquasante e Arenella. All'inizio degli anni Ottanta i fratelli Giuseppe e Vincenzo Galatolo avrebbero investito infatti nelle attività di rivendita di pneumatici 100 o 200 milioni per farlo iniziare. Ha fornito nel tempo vari contributi di natura illecita, approfittando della propria impresa, mettendosi a disposizione per organizzare a pressi locali della sua attività commerciale incontri tra esponenti mafiosi e per favorire il furto di autovetture. Ha ottenuto, siglando specifici accordi con esponenti di spicco del sodalizio, l'esonero da richieste estorsive, addirittura l'appoggio del sodalizio nell'eliminazione della concorrenza con metodi violenti e mafiosi. Operazione della Polizia di Stato in ambito ferroviario per la prevenzione di incidenti nelle stazioni. 400 controlli in 130 siti ferroviari siciliani. Vediamo. La Polizia di Stato con l'operazione Rail Safe Day, effettuata nei giorni scorsi in numerose stazioni ferroviarie siciliane, ha svolto servizi capillari di controllo, atti a prevenire e reprimere comportamenti scorretti in ambito ferroviario, spesso causa di incidenti in alcuni casi anche particolarmente gravi. Il bilancio complessivo è di oltre 400 persone controllate, di decine di irregolarità accertate e sanzionate, nonché di tre minori rintracciati. Ai servizi, coordinati dal compartimento Polizia Ferroviaria di Palermo, hanno preso parte più di 100 agenti che hanno operato in 111 stazioni siciliane e in altri siti ferroviari in cui più spesso sono stati accertati, nel corso dell'ultimo periodo, comportamenti irregolari e pericolosi da parte degli utenti, mettendo a repentaglio la sicurezza propria ed altrui. Oltre a sanzionare i trasgressori, gli agenti della Polfera hanno rimarcato l'importanza del rispetto delle basilari regole salvavita nel contesto ferroviario, come servirsi degli appositi sottopassaggi per spostarsi da un binario all'altro, non oltrepassare la linea gialla in attesa dei convogli e, in generale, non fare uso improprio delle infrastrutture ferroviarie. Nella stazione di Agrigento, gli agenti hanno rintracciato tre giovani tunisini minorenni che erano partiti da Palermo a bordo di un treno. I tre sono stati identificati e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, collocati presso una comunità dell'Agrigentino. La campagna di sicurezza, posta in essere dalla Polizia di Stato per ridurre in particolare le cause di incidenti nel contesto ferroviario, si affianca alle capillari attività di prevenzione che la Polizia Ferroviaria di Palermo, tramite il noto e consolidato progetto Train to be Cool, porta avanti nelle scuole di ogni ordine e grado, frequentate da studenti pendolari oppure ubicate nei pressi di siti ferroviarie. Il treno della sicurezza della Polizia, nelle ultime settimane, ha fatto tappa all'Istituto Comprensivo Sperone Pertini di Palermo. Gli agenti hanno concluso l'ultima delle cinque giornate di lezioni che hanno introdotto circa 550 bambini della scuola primaria e della secondaria di primo grado nell'affascinante ma anche pericoloso mondo ferroviario. In particolare sono stati evidenziati comportamenti tipici del mondo giovanile come selfie, uso delle cuffiette, camminare guardando lo smartphone, apparentemente innocui ma che possono diventare pericolosi se non addirittura letali, nell'ambiente sbagliato appunto come la linea ferrata. Parliamo di formazione professionale. L'Ars ha approvato la riforma fra le novità, la laurea per i docenti e un nuovo registro dei formatori e del personale. Con 35 voti favorevoli, 16 astenuti e 0 contrari, l'Ars ha approvato il DDL di riforma della formazione professionale. Una delle novità più importanti riguarda i docenti che dovranno essere laureati o in caso contrario dovranno avere maturato 5 anni di esperienza professionale nel settore di pertinenza, oltre ad essere in possesso di diploma. Verrà istituito un registro dei formatori e del personale della formazione che consentirà di mappare e monitorare agevolmente il sistema degli operatori. Novità anche per gli iscritti all'albo della formazione professionale ai quali per altri 5 anni si applicheranno le tutele già in vigore, mantenendo quindi la priorità in fase di assunzione. Gli operatori dovranno però confermare la loro iscrizione all'albo secondo procedure di evidenza pubblica e il mancato riscontro sarà considerato come rinuncia. Il Dipartimento regionale della formazione entro 120 giorni dall'approvazione della legge avvierà una procedura di evidenza pubblica. Per restare iscritti sarà obbligatorio partecipare ai corsi di aggiornamento. Modifiche anche in seno all'assessorato regionale, i dipartimenti istruzione e formazione professionale saranno scissi e distinti per competenze. Il primo si occuperà esclusivamente di istruzione pubblica e università e il secondo proprio della formazione professionale. E' ancora istituito il Comitato delle politiche regionali per la formazione professionale che avrà il compito di fornire proposte in merito alle politiche formative regionali. Sarà preseduto all'assessore regionale alla formazione e ne faranno parte i dirigenti e l'amministrazione competente, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei datori di lavoro. Per monitorare la funzionalità e la qualità del sistema della formazione è stabilita dalla legge una valutazione con cadenza triennale attraverso una relazione fornita dall'assessore al ramo che renderà noti i risultati conseguiti sul piano formativo e occupazionale, dalla misurazione delle performance degli operatori a livello di soddisfazione e di successo raggiunto dagli allievi. Per la prima volta la regione siciliana realizza un bando per finanziare la formazione in impresa allo scopo di favorire l'inserimento occupazionale dei lavoratori. Si intende creare opportunità di inserimento o reinserimento lavorativo sia di coloro che si affacciano per la prima volta nel mercato del lavoro sia di chi invece è fuoriuscito dal contesto lavorativo. In buona sostanza vogliamo far tornare a parlare l'impresa con il mondo educativo, rivedere il sistema formativo, vorrei attenzione a quello che le imprese chiedono per creare abilità professionali che siano richieste dal mercato. Ci sembra un'idea assolutamente semplice e pure finora mai presa in seria considerazione. Per questo il nostro governo sta passando dalle parole ai fatti e sono convinto che nello spazio di qualche anno troveremo risultati concreti perché i nostri giovani hanno bisogno di essere accompagnati in questo percorso e le imprese si impegnano ad assumere il 25% dei giovani formati, le grandi imprese anche il 40% e quindi il giovane entra subito nel ciclo produttivo dell'azienda e questo è uno dei grandi obiettivi cui bisogna guardare se vogliamo preparare un mondo del lavoro che non sia condannato alle aree di parcheggio. Si affiancano ai corsi tradizionali nuovi obiettivi e nuovi paradigmi. Quello che oggi in particolare ci riguarda e che fa parte di un pacchetto già presentato lo scorso 4 luglio che oggi arriva alla sua definizione è un momento formativo che vede insieme gli enti di formazioni e le imprese su progetti formativi da entrambi condivisi e curvati sulle esigenze di ammodernamento, di innovazione e di reclutamento delle imprese di modo che questo finito il periodo di formazione teorico e in azienda on the job possano utilizzare il personale così formato per le assunzioni che sono previste dal fabbisogno assunzionale di ciascuna imprese. Sono in questo momento su questa linea 6 milioni di euro che fanno parte di un pacchetto complessivo di circa 25 milioni di euro per tutte le 5 misure di innovazione per l'impresa e che saranno in parte sono state già attuate con avviso, altre lo saranno da qui a dicembre e gennaio in modo tale da poter rendere e avere rispetto della temistica che avevamo già comunicato lo scorso 4 luglio. E' stato firmato a Palazzo delle Aquile il nuovo contratto integrativo dei dipendenti del Comune di Palermo tra l'amministrazione Orlando e le organizzazioni sindacali. La trattativa ha riguardato la parte giuridica del contratto a cui ora dovrà seguire quella economica dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio in Consiglio Comunale. Vediamo. E' stato firmato a Palazzo delle Aquile il nuovo contratto integrativo dei dipendenti del Comune di Palermo tra l'amministrazione Orlando e le organizzazioni sindacali. La trattativa ha riguardato la parte giuridica del contratto a cui adesso dovrà seguire quella economica dopo l'approvazione dell'assestamento di bilancio in Consiglio Comunale e il conseguente stanziamento di 1,5 milioni di euro. Il contratto prevede la conferma di tutti gli istituti pregressi, l'indennità per gli assistenti sociali, i funzionari contabili e amministrativi con compiti particolarmente gravosi e per coloro che svolgono servizi disagiati. Un allargamento della platea delle figure professionali che percepiranno l'indennità di funzione, l'indennità di servizio esterno per la Polizia Municipale e ancora i progetti di produttività specifica per i servizi svolti di sabato-domenica e in occasione dei festivi infrasettimanali come quelli dei vigili urbani o dei settori cultura, sport, cimiteri e turismo. Un grande risultato, dicono Nicola Scaione del CSA CISAL, Lillo San Fratello della FPCGL e Salvatore Sampino e Leoneo Martinez della UIL FPL, frutto di una lunga concertazione di un proficuo contributo dei rappresentanti dei lavoratori. Non possiamo che essere soddisfatti di questo accordo che verrà finanziato grazie ad apposite somme in bilancio con le quali si provvederà a riconoscere quanto dovuto anche ad altre categorie. Un adeguamento contrattuale, afferma il Vice Sindaco ed Assessore al Personale Fabio Giambrone, che renderà possibile una maggiore efficienza dei servizi, cui corrisponderanno maggiori gratificazioni per i lavoratori. Per il Vice Sindaco che ha seguito la trattativa, la ritrovata sintonia con tutte le sigle sindacali è molto importante ed è una base su cui costruire una più forte collaborazione. Soddisfazione anche da parte del Sindaco Lelucorlando, che sottolinea l'importanza di una sintonia e collaborazione con i sindacati che rappresentano i dipendenti, asse portante di tutta la macchina comunale dal cui lavoro dipende la qualità dei servizi resi a tutta la comunità. A Palazzo Sclafani si è tenuta la conferenza sul culto della memoria, tutela e rispetto ai militari caduti in guerra e nelle missioni di pace. Vediamo il servizio. Oggi nel Salone delle Bifore di Palazzo Sclafani, una delle sedi al Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, si è svolto un incontro che ha trattato del culto della memoria, tutela e rispetto ai militari caduti in guerra e nelle missioni di pace. Un'iniziativa sviluppata dal Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti per i cento anni dalla sua Costituzione. Conferenza preseduta da Alessandro Veltri, Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti, la giornata può essere collegata al concorso che il Comando Militare dell'Esercito in Sicilia ha portato avanti negli ultimi mesi, in collaborazione con le scuole siciliane, per la realizzazione di monumenti ai caduti nei principali centri dell'isola. È fondamentale il momento che viviamo oggi qui a Palermo, per cui nella veste di Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti verrò a parlare della tutela, del rispetto del culto della memoria. È un qualche cosa che qui in particolare in Sicilia è molto avvertito e che quindi va consolidato. Da questo punto di vista devo dire che il nostro Ministro della Difesa, il Ministro Guerini, è estremamente sensibile sul tema. Il Commissariato ricordo dipende direttamente dal Ministro e esprime sempre grande vicinanza come ha fatto in occasione del 12 novembre, in occasione della cerimonia che è stata svolta come ogni anno alla Chiesa della Racelia, alla Basilica della Racelia a Roma, a tutte le famiglie dei caduti. Quindi memoria, testimonianza anche per il futuro della nostra patria. Oggi noi siamo lieti di accogliere il Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti perché contestualmente, nella sala che oggi ospiterà questa conferenza, esponiamo i finalisti dei bozzetti realizzati dalle scuole di tutta la Sicilia per la realizzazione di un ipotetico monumento ai caduti civili e militari nelle missioni di pace. Questo ricordo dei nostri soldati e dei nostri civili, anche caduti nelle missioni, è totalmente in linea con quello che ha appena detto il Generale Veltri. A tal proposito, Adam Darascio, assessore alla cultura del Comune di Palermo, ha dato parele favorevole alla realizzazione di un monumento in città. Assolutamente sì, si farà a Palermo, assolutamente sì. Significativo l'intervento di Rita Melia, mamma di Giuseppe Orlando, militare deceduto nel 2006 in Afghanistan durante una missione di pace. Questo può essere un momento per fare memoria ma soprattutto per ricordare il sacrificio di suo figlio. Sì, è come infatti una bella iniziativa che finalmente anche Palermo avrà il suo monumento dove tutti possono vedere e vedere diciamo i nomi di questi ragazzi. I ragazzi che si impegnano nelle missioni di pace. Appunto, mio figlio aveva 26 anni ed è morto in una missione di pace in Afghanistan. Confcommercio Palermo con la partecipazione dell'Associazione dei Fioristi e dell'Associazione Pubblici Esercizi sostiene anche quest'anno la campagna natalizia dell'AIL Palermo. Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella. Le iniziative sono state presentate questa mattina. Questo è per noi un momento particolare. È il momento della campagna, delle stelle di Natale. Quest'anno anche in occasione del cinquantenario della nostra associazione anche dei cioccolatini Venchi ma è anche il momento in cui verifichiamo la nostra presenza nella città. La verifichiamo appunto con manifestazioni come queste in cui la Confcommercio che rappresenta i soggetti produttivi della nostra città ci manifesta tutta la sua solidarietà con una partecipazione attiva in particolare dei fiorai e degli esercenti pubblici. Sempre una bellissima iniziativa. Nasce tre anni fa con l'incontro nostro con il presidente Toro che rappresenta l'AIL a Palermo e provincia. Questa è la terza edizione. Questa terza edizione che sta portando sempre più benefici e più messe in vista perché quando i fioristi professionisti si mettono a disposizione dell'AIL dando un contributo molto importante ed essere solidale con le persone che hanno bisogno io penso che sia una delle più belle iniziative che possa esistere. Ci attueremo per portare avanti a livello nazionale le iniziative dei fioristi con l'AIL. I fioristi che ne abbiamo per il momento su Palermo e provincia sono una ventina. Noi da tre anni che abbiamo sposato l'iniziativa e devo dire che è stata crescente e con un successo che si è raddoppiato di anno in anno. Pensate che abbiamo cominciato solamente per quanto riguarda il settore di ristorazione con cinque attività. L'anno scorso erano diventate nove. Quest'anno sono 18 quindi è una crescita totalmente esponenziale che non fa altro che è certificare il bene dell'iniziativa e quanto sia coinvolgente in termini di partecipazione attiva. In quasi tutte le attività commerciali del settore di ristorazione, tutte le stelle che erano state messe a disposizione da parte dell'AIL sono state quasi tutte vendute e devo dire che ho notato anche richieste da parte di clienti che cercavano anzi un incentivo in più. I bar mettono a disposizione caffè e cornetto, invece quasi tutti i ristoranti sostituiscono i due euro del coperto al costo della stella che è 12 euro. Ancora presenti con le nostre associazioni dei fioristi e di Fipe per manifestare solidarietà non soltanto per Natale ma a Natale la solidarietà acquista un significato speciale. Anche a Natale gli imprenditori della provincia di Palermo vogliono pensare a maggior ragione a chi non sta esattamente bene e a chi ha bisogno di aiuto e a chi ha bisogno di ricerca. È un modo per far sentire il senso di comunità che accomuna l'imprenditoria sana. Ecco che quindi a Natale Confcommercio c'è. A Palazzo Adriano presso il cantiere Gebbia è stato consegnato un riconoscimento agli operatori del comparto forestale impegnati nei lavori di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Ci parli del lavoro che avete fatto qui in Contrada Gebbia? Abbiamo fatto un lavoro di pulizia sotto il bosco e taglio di arberi che non andavano bene che diciamo erano pericolanti da cadere e creare problemi pure alla gente che ci lavora. E quindi abbiamo fatto un lavoro un po' contrastato diciamo con un po' di sicurezza cercare di stare attenti a evitare problemi agli operai. Insomma un lavoro un po' difficoltoso. I problemi sono sempre gli stessi? I problemi sono sempre gli stessi perché vogliono che non devono cambiare. Perché ci vogliono tenere sempre così. Cosa chiedete? La stabilizzazione. Principalmente la stabilizzazione di tutti gli operai forestali. Assolutamente attraverso la produttività del bosco si possono garantire le giornate. Le giornate che vadano oltre queste misere 78, 101 e 151 per rendere fluibile il bosco tutto l'anno per valorizzare l'operato di questi angeli a tutela dell'ambiente. Questa è la nostra battaglia e non ci fermeremo. Com'è andata? Bene. Che cosa avete fatto? Abbiamo lavorato. La stabilizzazione dopo 30 anni ci spetta. Ci spostiamo a San Giuseppe Iato dove è nata la seconda sede di Benin City, l'associazione che si occupa di offrire un futuro diverso alle donne nigeriane vittime di tratta e prostituzione. È nata a San Giuseppe Iato una nuova sede dell'associazione Donne di Benin City, l'associazione che si batte contro la prostituzione e la tratta. Questa è la seconda sede che dopo quella di Palermo si occuperà di offrire un diverso futuro alle donne nigeriane vittime di prostituzione. Un pomeriggio importante anche dal punto di vista economico, donati 10.260 euro raccolti in favore delle donne vittime di tratta. Tante le autorità presenti all'inaugurazione della nuova sede in provincia di Palermo, tra le quali Mimmo Spica, vice sindaco di San Giuseppe, Antonella Longi, consul onorario di Capoverde a Palermo, l'arcivescovo di Monreale Michele Pennisi, Nino Rocca, responsabile della rete sociale a sostegno della lotta alla tratta delle schiave, Nino Tripodo, Mirella Fedele e Biagio Cigno, dell'associazione Liberi di Lavorare. Come promesso il governo Musumeci chiuderà un'altra pagina di incuria aperta nel passato. È infatti pronto il primo progetto per riportare all'antico splendore il castello Utveggio di Palermo. Come promesso il governo Musumeci chiuderà un'altra pagina di incuria aperta nel passato. Infatti è pronto il primo progetto per riportare all'antico splendore il castello Utveggio di Palermo. L'imponente palazzo in stile Liberty che sorge su Monte Pellegrino è stato per 30 anni la sede del Cerisdi, la scuola di alta formazione della regione siciliana, che l'ex presidente Rosario Crocetta decise di chiudere nel 2016, provocando anche l'inevitabile declino dell'immobile. L'elaborato porta la firma dell'ufficio speciale per la progettazione di Palazzo d'Orlean, che lo ha già trasmesso al Dipartimento regionale tecnico. Prevede una serie di interventi di ripristino infrastrutturale che riguarderanno anche i locali della foresteria e il fabbricato rurale attiguo, oltre a interessare i giardini esterni. Tutte opere che hanno già avuto il via libera da parte della Sovrintendenza dei beni culturali e dell'ente gestore della riserva naturale di Monte Pellegrino. Il costo è stato stimato in circa 300.000 euro e i lavori dovranno essere eseguiti nell'arco di sei mesi. Sarà recuperata, afferma il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, un'altra sede prestigiosa appartenente al patrimonio regionale lasciata a lungo e stato di abbandono e le cui enormi potenzialità sfrutteremo fino in fondo. Per lo storico Palazzo Palermitano in fase di realizzazione anche un secondo progetto che ne prevede l'efficientamento energetico. Un maxipiano, insomma, quello messo in campo dal governo Musumeci per ridurre i consumi e ottenere risparmi negli edifici pubblici già finanziato dalla regione con quasi 30 milioni di euro. Il decreto di approvazione della gradatoria, firma del dirigente generale del Dipartimento dell'Energia Tuccio D'Urso, è già stato pubblicato. A Castello Teveggio sono destinati quasi 6 milioni di euro. Un successo a San Pietro Clarenza il raduno nazionale di Regni in carrozzina. Tre giorni di confronto, crescita, sviluppo e prospettiva e questo in breve l'esito del raduno tecnico e promozionale FISPES dedicato al Wheelchair Rugby che si è tenuto a San Pietro Clarenza. Coordinato dal direttore tecnico della Nazionale di Wheelchair Rugby, Franco Tessari, negli impianti messi a disposizione dalla scuola di formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, sono andati in scena allenamenti e classificazioni degli atleti del team Wheelchair Rugby Catania della ASD All Sporting. Momento clou l'incontro a ranghi misti con ospiti alcuni atleti di rilievo nazionale, Nicolò Toscano e Paolo Sacerdoti del Padova Rugby, la squadra campione d'Italia Giuseppe Testa dei Mastini Cangrandi Verona e Renato Gigli dei Romanes Wheelchair Rugby. Il risultato, oltre il 20 e 18 finale, è stato un momento di sport e di alto profilo con il pubblico delle grandi occasioni ed illustri ospiti. Si avvicina per i lapuni dell'Etna, questo è il nickname della formazione atnea, la partecipazione al campionato italiano. Ne è convinto il coach dei siciliani, Antonio Luca Cudè, soddisfatto per come si sono comportati i suoi atleti. Ottimista anche coach Tessari, per lui quanto fatto sin qui in Sicilia è un ottimo punto di partenza per un gruppo dalle grandi potenzialità che può crescere molto. Tanta partecipazione ed entusiasmo per un fondamentale step che si è reso possibile grazie agli sforzi del presidente al Sporting, Nino Maugeri, del suo vice Aldo Gioia, del segretario Simone Manganaro, del team manager Salvo Mirabella e al contributo di singoli ed organizzazioni. Infatti, al Comitato Italiano Parolimpico e alla FISPES, alla Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, si è aggiunto il supporto della Polizia di Formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha messo a disposizione gli ottimi impianti sportivi in cui si sono svolte le attività. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alla seconda edizione di Media News. Grazie a tutti.